Ciao a tutti, oggi prepareremo lo staccante per teglie. Il tempo di preparazione della ricetta è di tre minuti circa. Ingredienti sono olio di semi, farina e burro morbido. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il burro, la farina e l'olio. Ed azionare il bimbi per un minuto e 30 secondi, da velocità 4 a velocità 6. Lo staccante per teglie è pronto, trasferire in un vasetto con chiusura ermetica. Staccante per teglie, ideale per imburrare teglie e stampi per torte dolci e salate. Si conserva in frigo per due mesi. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!